Sono tanti, sono colorati, sono vari, sono i giochi Zenimax che debuttano finalmente sul servizio Game Pass. Scopriamo insieme quali a nostro parere sono i migliori e quali, soprattutto, fanno più al caso vostro. Entriamo nel dettaglio. Iniziamo con i due Dishonored di Arkane Studios, dei giochi che ci riportano alla memoria i grandi classici del passato sviluppati dai Looking Glass Studios per Origin. Sono degli action in prima persona, ma degli action molto particolari, con elementi da gioco di ruolo e che concedono al giocatore una grandissima libertà nell'approccio. Anche qui, spesso e volentieri, bisognerà assassinare un obiettivo. Come farlo? Starà a noi, starà alla nostra abilità e starà al modo in cui avremo cresciuto il personaggio, migliorato le sue abilità. Il primo gioco è molto bello, ma è un modo di Arkane, di scaldarsi i muscoli. Il vero capolavoro è Dishonored 2, dove ci sono dei livelli che, ve lo assicuro, vi rimarranno impressi nella testa per sempre. C'è addirittura un livello in cui dovremo giocare due timeline diverse, quella del passato e quella del presente contemporaneamente. Non vi dico altro perché non voglio rovinarvi la sorpresa. Passiamo a id Software, passiamo quindi a Doom. Sono ben cinque i Doom che debuttano sul Game Pass. Abbiamo Doom 1 e Doom 2, che sono la storia degli FPS, ancora oggi perfettamente giocabili e oggi ancora meglio grazie alle patch che sono uscite successivamente dopo che questi nuovi porting sono stati introdotti sul mercato. Poi abbiamo Doom 64, che non è un semplice porting, ma un Doom con dei livelli quasi del tutto nuovi. Davvero, davvero molto bello. Infine, passiamo al controverso Doom 3. È un gioco diverso, con un tipo d'azione diversa, molto più ragionata, molto più lenta. Non è quell'FPS feroce che avevamo imparato ad amare con i primissimi capitoli, ma preso così, trovato nel mazzo, è assolutamente uno di quelli da giocare. Discorso diverso per Doom Eternal. Manca il Doom del 2016, probabilmente per una partnership pregressa che deve scadere, ma abbiamo Doom Eternal. Quindi l'ultimissimo capitolo, un vero e proprio capolavoro, il gioco che ha riportato in auge lo stile di gameplay dei primissimi giochi, qui anche con forti dosi platform. Continuiamo a preferire Doom del 2016, ma Doom Eternal è davvero un seguito assolutamente all'altezza. Passiamo ora a Fallout. Non c'è veramente niente da aggiungere, Fallout si presenta da solo. Qui abbiamo tre Fallout diversi. Fallout New Vegas, che è probabilmente il migliore in assoluto tra quelli tridimensionali, da quando la serie è passata in mano Bethesda. Però paradossalmente non è sviluppato da loro, ma dagli infaticabili Obsidian. Poi è il turno di Fallout 4, che non è un buon gioco di ruolo. Da questo punto di vista effettivamente Bethesda ha compiuto un mezzo passo falso, ma è un grandissimo gioco di esplorazione. Quindi merita assolutamente di essere giocato. Infine c'è Fallout 76, che come saprete è un gioco che ha vissuto un lancio estremamente problematico e di cui io personalmente sconsiglio sempre l'acquisto, ma considerando le ultime espansioni, compresa quella che lo trasforma quasi in una sorta di Fallout classico, considerando che se siete abbonati Game Pass non dovrete sborsare una lira di più, è forse il caso di togliersi il dubbio e giocarci in prima persona. Torniamo ad Arkane Studios, questa volta per parlarvi di Prey, che era già comparso su Game Pass, poi è scomparso e oggi fortunatamente riappare in via definitiva. Prey, a mio parere, è uno dei più grandi giochi degli ultimi anni. Un'avventura, un gioco di ruolo, un FPS che riporta ancora una volta i fasti looking glass come i Dishonored. In questo caso siamo molto più vicini al meraviglioso System Shock, tutto ambientato all'interno di una base stellare che è in orbita attorno alla luna e ancora una volta, grazie ai level designer di Arkane, avremo una libertà d'approccio assolutamente sbalorditiva. Se non l'avete ancora giocato, questo è uno dei primissimi che dovete scaricare. Arriva il momento anche per Rage 2, anche lui apparso già su Game Pass, e poi scomparso e riapparso anche lui, questa volta in via definitiva. È un gioco carino, niente di più, niente di meno, dura molto poco, probabilmente è uno di quelli che sconsiglierei assolutamente da comprare, ma è uno di quelli che consiglio da giocare nel momento in cui è possibile scaricarlo con un click dal Game Pass. Potete lasciarlo per ultimo, però un'occhiata datagliela perché se la merita. E arriviamo al piatto forte, arriviamo agli Elder Scrolls. Quali sono quelli che arrivano? Semplicemente sono Morrowind, Oblivion, Skyrim e infine The Elder Scrolls Online. Nulla da dire su Oblivion, è il più moscio di tutti ma è storicamente molto importante. Nulla da dire su Skyrim, da aggiungere su Skyrim perché tutti lo abbiamo giocato e se non l'avete giocato eccolo qua. Qualche cosa da dire invece su Morrowind ce l'ho perché nonostante oramai sia tecnicamente datato a livello di gameplay e ancora oggi il The Elder Scrolls migliore di tutti. L'unico con delle scelte importanti, una trama incredibile, innovativa per certi versi e soprattutto con delle meccaniche che sono in assoluto le più complesse, le più elaborate, le più impegnative da affrontare da quando esiste la serie The Elder Scrolls. The Elder Scrolls Online invece è un gioco che ha iniziato con qualche problema ma poi Zenimax ci ha speso soldi, tempo, fatica, ingegno e ha tirato fuori quello che è uno degli MMO moderni più popolari insieme a Final Fantasy 14. Oggi trovarselo qui sul Game Pass è davvero un'opportunità unica per provarlo finalmente con mano. Tra tanti giochi, id Software, Bethesda e quant'altro, ecco il turno di Tango Entertainment, la software house creata da Shinji Mikami che arriva su Game Pass con il loro primo gioco, quel The Evil Within che di fatto è un tentativo di Mikami di rifare The Resident Evil. Quindi anche il titolo dice la stessa cosa, il male residente, la cattiveria all'interno, è praticamente lo stesso concetto. Il gioco non è mai stata una bomba tecnicamente però è un gioco che si lascia assolutamente giocare con piacere, soprattutto su Game Pass. Ed eccoci arrivati alla fine, alla fine troviamo tre diversi Wolfenstein. Abbiamo il primo che è New Order, poi c'è l'espansione Standalone di New Order che si intitola Old Blood, entrambi sono davvero degli FPS capolavoro che se non avete giocati dovete giocarli davvero, soprattutto con le cuffione e al massimo volume. Al terzo e ultimo posto mettiamo Wolfenstein Youngblood che è una sorta di collaborazione tra gli sviluppatori della serie con i level designer di Arkane Studios. Il gioco è pensato specificatamente, ma è possibile giocarlo anche da soli, per la cooperativa. Quindi se state cercando un nuovo gioco da giocare online con un vostro amico, Wolfenstein Youngblood potrebbe davvero fare al caso vostro. Porca miseria se ce n'è da giocare, qui abbiamo davanti veramente mesi e mesi, se non addirittura un anno intero di gameplay sopraffini. Io personalmente il primo gioco scaricato è stato Morrowind, perché mi basta la colonna sonora, le prime note per ricadere in un sogno a occhi aperti che non vedo l'ora di vivere di nuovo. E voi, qual è il primo gioco che avete scaricato? Qual è il primo gioco che scaricherete una volta che avrete accesso al Game Pass? Fatemelo sapere qua sotto e continuate a seguire Multiplayer.it. Alla prossima!